La storia di Sansepolcro e quella della Buitoni sono inestricabilmente intrecciate. Appare infatti quasi scontato ricordare come l'azienda alimentare sia riuscita a trasformarsi da piccola impresa artigianale a grande industria internazionale, trascinando con sé nella propria crescita la città biturgenze e tutta la Valtiberina. La Buitoni quest'anno compie 180 anni dalla fondazione, ma la città non sembra sentire troppo questa ricorrenza. Nella città pierfrancescana sono due gli eventi in programma, solo due mostre per ricordare 180 anni di storia. Un'esposizione allestita presso la casa di Piero della Francesca e riguardante un percorso sull'alimentazione ed un'altra lungo il corso legata alle vecchie e mitiche figurine Buitoni. Poi nient'altro. A dire la verità, nel 2005 la giunta Ugolini aveva lanciato l'idea di una festa della da tenersi proprio in concomitanza con l'anniversario dell'azienda nata a Sansepolcro. Come si legge in una delibera di giunta, si era anche conferito proprio a questo fine l'incarico di studio e consulenza al signor Davide Paolini, per il quale veniva previsto anche un compenso di 5.000 euro, a cui poi si aggiungevano altri 5.000 da utilizzare come indennità per gli ospiti invitati da Paolini stesso ai forum che avrebbero dovuto essere realizzati. Tra le altre cose si prevedeva anche una sorta di biennale della pasta, tutti i bei progetti di cui però nessuna Sansepolcro ha visto la realizzazione. Peccato però che nel frattempo la liquidazione del compenso sia comunque avvenuta. Di certo c'è che le due mostre in programma non bastano a celebrare quel marchio storico che è la Buitoni e dei suoi 180 anni di attività, fatti anche di incomprensioni e difficoltà, ma in ogni caso legati indissolubilmente, come detto, a Sansepolcro e ai Biturgensi. Tra l'altro sembra che siano emersi dei problemi organizzativi anche per organizzare le due rassegne previste, tanto che attualmente c'è ancora un forte punto interrogativo sulla loro effettiva realizzazione. Proprio riguardo alle celebrazioni dell'azienda alimentare, attualmente in mano alla Nestlé, sarà presentata nei prossimi giorni in Consiglio Comunale una mozione da parte del gruppo consigliare dell'Ulivo in cui si chiederà all'amministrazione di farsi carico del completamento del restauro del monumento dedicato a Giovanni Buitoni, di conferire qualche attestato di riconoscimento alla famiglia Buitoni stessa ed infine di elaborare un progetto di un museo di impresa utilizzando anche i vari macchinari d'epoca e i materiali provenienti dall'archivo storico della Buitoni.